Notizia, ricerca, analisi o altro tipo di informazioni forniti sotto forma di commenti generali sul mercato non costituiscono consigli di investimento e sono dati con finalità educative in ambiente demo. XTB non si assume responsabilità per nessun tipo di perdita o danno, compresi i mancati profitti che potrebbero sorgere o dipendere direttamente o indirettamente dall'utilizzo di tali informazioni. Perfetto, andiamo un attimino avanti, andiamo sulla nostra piattaforma, vediamo subito che il DAX dopo due giornate piuttosto al ribasso, siamo già a 11.640, un'apertura, un gap up piuttosto interessante che è stato già parzialmente chiuso, lo vediamo qui in un grafico a 15 minuti, è andato a sbattere proprio sul 61.8, una chiusura proprio sul 61.8 che ha dato il via adesso in questo momento specifico ad un'operativa a rialzo, a qualche punto al rialzo. Ad ogni modo questa situazione secondo me già si sta un po' finalizzando, quindi io aspetterei personalmente di lanciare un po' una strategia al ribasso e possibilmente in zona 11.670. Ok, quindi zona 11.670, quindi questa zona qui, più o meno, questo livello qui, 11.675, quel prezzo lì sarebbe un prezzo molto molto interessante da poter sortare. Non manca tantissimo, mancano all'incirca 30 punti, quindi chi vorrebbe provare delle scalpate al rialzo, fino a quel livello lì ci sta assolutamente tutto. Quindi tra il gap in questo caso qui è stato fino, è stato all'incirca di una quarantina di punti, quindi siamo ipoteticamente su una zona ideale di prezzo di apertura e sotto questo punto di vista, quindi ci aspettiamo proprio in questa zona qui di 11.675 la possibilità per iniziare un po' a shortare. Non escludo che, visto l'elevato livello di ipercomprato che c'è in questo momento qui, ovviamente a livello giornaliere, vedete qui incrociando la strategia dei gap con la strategia dell'R6, siamo già a 82.9, possa fare un piccolo rimbalzo, poi ancora un altro massimo e poi darvi effettivamente l'opportunità di shortare. Quindi possa creare un po' una divergenza, magari un doppio massimo per quanto riguarda il DAX adesso e proprio in questa zona qui sotto gli 11.675 e un doppio massimo discendente sull'indice di forza relativa che quindi vi permetterà proprio di captare questa divergenza qui. Vi ricordo sempre che prossima settimana dovremmo avere quindi un webinar su questa strategia qui e non solo, parleremo di volatilità, di trailing stop e ovviamente della strategia R6. Vi raccomando per chi già lo sapesse utilizzare sulla piattaforma di utilizzare il trailing stop, funziona molto molto bene, in questa giornata qui utilizzerei 15 punti di stop loss. Obiettivo ovviamente possiamo tenerci ampi a partire dai 30 punti fino ai 50 punti di take profit, quindi a partire dai 30 punti vuol dire target price minimo 30 punti, target price massimo 50 punti. Oggi pomeriggio alle 14.15 vi ricordo l'appuntamento con il nostro live trading, se non sbaglio avete ricevuto correttamente tutto quanto, sia le password, sia comunque il link, come vedete ve lo ricordo, voi che avete comunque già attivato di default il premium, e potete tranquillamente consultare password e link sul nostro portale tradebit.it. Vedete che il DAX in questo momento sta quasi raggiungendo un po', mancano 20 punti, già fatto altri 10 punti di rialzo, quindi come vi dicevo è possibile scalparlo, vedete come ha funzionato bene questa resistenza proprio, è stata proprio millimetrica, vi faccio una piccola, eccola qui, guardate, sbatte proprio sul supporto del 61.8, quando poi l'apertura di questa seconda candela a 15 minuti è proprio sopra il 61.8, ci rompe un po' questa piccolissima trend line a 15 minuti, quindi è un segnale abbastanza chiaro di acquisto, quindi questo succede molto spesso nel DAX, succede quindi tenetelo ben presente, insomma per la prossima apertura, perché succede abbastanza frequentemente questa cosa qui, il 61.8 in questo caso qui funziona molto bene sia come resistenza sia come supporto dinamico, ok? Quindi vi ricordo, punto di ingresso short, 11.675, stop, ovviamente 15 barra 20 punti massimo, ok? Con possibilità di vedere un doppio massimo e quindi poi una divergenza sull'RSA e a 6 periodi, incrociando le due strategie. Al momento, per il momento è tutto, per qualsiasi domanda avete il mio indirizzo di posta elettronica, andrea.dimarco.xtv.it, vi ringrazio per essere stati qui con me e vi auguro ovviamente un buon trading.